I medici, il personale infermieristico, le associazioni di volontariato stanno svolgendo un lavoro importante contro la lotta al covid-19. Domenica 1 agosto, a causa del mancato approvvigionamento da parte della regione Campania delle dosi di vaccino, il centro vaccinale non ha potuto svolgere, come di consueto, l'iter per le somministrazioni. Tanti sono stati i cittadini che hanno lamentato di essere stati mandati a casa dopo aver atteso il proprio turno all'esterno della struttura di Via Taverne, però a chiarire cos'è successo nel dettaglio è la responsabile del centro vaccinale, la dottoressa Cinzia Granito. Vorrei sottolineare che le persone che sono arrivate davanti alla palestra della Croce Rossa e hanno trovato chiuso la sede vaccinale di Agropoli sono state in numero limitato rispetto a quanto riportato. Io ho un elenco di quelli che sono arrivati qui di circa 30 persone. Allora c'è da considerare che la piattaforma su cui ci si registra chiede non a caso sempre un numero di cellulare ed una mail, un indirizzo mail, proprio perché sono necessari questi contatti per eventuali comunicazioni, aggiornamenti ed eventuali spostamenti, perché il percorso vaccinale può subire dei rallentamenti in base all'approvvigionamento dei vaccini. Pertanto è capitato che abbiamo constatato che alcune persone hanno lasciato indirizzi mail non attivi oppure siccome hanno effettuato la registrazione in farmacia e non avevano un indirizzo mail, i farmacisti è capitato che qualche farmacista in qualche farmacia ha inserito il proprio indirizzo mail o anche un indirizzo mail è stato messo delle volte da un medico di medicina generale quando è stato il medico di medicina generale a prenotare l'assistito sulla piattaforma. Ovviamente a questo punto queste mail non sono state più guardate, non sono state più lette da nessuno, per cui non c'è stata la possibilità di controllare un eventuale spostamento della propria seduta vaccinale di richiamo. In ogni caso noi abbiamo comunque provveduto a riconvocare tutte le persone che erano state spostate e che si sono presentate non conoscendo lo spostamento. Il centro città di Agropoli, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola, oggi gode di ambienti refrigerati e all'esterno durante il percorso che precede l'entrata nelle scorse settimane, l'ente comunale ha installato dei gazebo per dare la possibilità ai cittadini in fila di avere un posto all'ombra viste le alte temperature. Io voglio sottolineare che la vaccinazione non è una prestazione singola ma è un percorso quello dell'effettuazione della vaccinazione che prevede varie fasi, la fase di accettazione, la fase di anamnesi con il medico nel box vaccinale e l'esecuzione della vaccinazione vera e propria, poi ancora l'osservazione e la dimissione. Per cui può accadere che ci siano dei tempi più lunghi perché ovviamente ci può essere un rallentamento in una di queste fasi. Però bisogna sempre cogliere il beneficio di effettuare una vaccinazione così importante in un periodo così critico della nostra vita. Per quanto riguarda i ringraziamenti, io devo ringraziare innanzitutto il sindaco di Agropoli, il comune, che ha consentito di agevolare, di facilitare innanzitutto con spazi più ampi il percorso vaccinale della popolazione agropolese e anche l'importanza del microclima, del benessere sia dell'equip che partecipa, che effettua le vaccinazioni, sia degli utenti che arrivano qua e che devono essere vaccinati. Sono stati infatti allestiti dei condizionatori che consentono di stare freschi di questo benessere durante l'esecuzione della vaccinazione. E poi ancora devo ringraziare la Croce Rossa che ci ha seguito e che ci dà una grande mano nel contenere le fila degli utenti nelle varie fasi del percorso vaccinale, ci hanno sempre affiancato ed agevolato nell'esecuzione. La protezione civile che spesso ha affiancato la Croce Rossa in questo percorso e ancora anche i Boy Scout che spesso, visto la domenica, venire ed aiutarci e accompagnare i disabili e affiancare le persone più fragili. Poi ancora, non ultima ma non ultima, l'associazione Carabinieri che con i loro umori gentili, con i loro caratteri così armoniosi, ci aiutano e ci affiancano in questo percorso. E poi ovviamente un ringraziamento alla mia dirigenza, al dottore Maiese, al dottore Giannatasio, al dottore Meola che consentono tutto questo, che ci permettono a noi dipendenti di proseguire in questo percorso.